Inflazione e economia globale Inflazione e economia globale nella zona dell'America applica ha sai funo per cento 0,75 ladunfo impatto per Timor-Leste e per Timor-Leste tutta la barra Ha re insuosione senti orgoglio per Timor-Leste ne vedete che farà una fatta a tua solo situazione global saire da date John Carlos Tito Silva Gemmèn